ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato ad un unboxing allora eccoci qua come intanto capita sovente capita con una puntata dedicata ad un unboxing un unboxing di un orologio che possa ritenersi decente il cosiddetto entry level alla portata di tutti e a volte ci si riesce a volte un po meno però ci sono sempre orologi abbastanza interessanti che si riesce ad andare a spulciare al di là delle caratteristiche tecniche perché vi ricordo che un orologio decente non è che è un orologio con delle caratteristiche tecniche decenti è un orologio che ti dà un certo tipo di soddisfazione ed è tutto relativo alla persona che siamo nel senso che nessuno porta più un orologio per guardare che ore sono al giorno d'oggi lo fa per piacere ok per avere qualcosa per una piccola emozione che ci può dare un orologio al polso quindi anche un orologio come fosse un 6.5 o un orient con un bracciale scrauso può dare delle emozioni no quindi non dipende tutto dalle caratteristiche tecniche è questo che volevo dire ora in questo caso ci troviamo anche di fronte un marchio abbastanza importante un marchio storico che ha il suo perché ora poi vedremo come al solito io faccio l'unboxing e poi dopo subito dopo voi vedrete la video recensione nel dettaglio le immagini le specifiche tutto quello che c'è da sapere perché perché io faccio l'unboxing poi lo testo per una settimana e poi faccio la video recensione però per non tediarvi per non farvi aspettare del tempo inutile io unisco poi i due spezzoni e voi vedrete tutto come se si trattasse di un video solo ok questo lo faccio insomma per evitare di fare due video sullo stesso orologio un unboxing e poi dopo una recensione no non ho bisogno di allungare il brodo facciamo subito facciamo subito i contenuti e via niente l'orologio del giorno oggi è questo bellissimo long zin legend diver da 39 mm con quadrante nero calibro l888 orologio che è entrato recentemente nella mia collezione e che io ritengo sia veramente veramente carino non vedo l'ora che viene l'estate per sfoggiarlo al mare tra gli ombrelloni e tra le belle sniappe così sicuramente si cucca con questo orologio si cucca si cucca adesso bando alle ciance e partiamo l'unboxing dai per l'unboxing ci vuole l'unboxing più veloce del mondo questa perché carta straccia abbiamo qua c'è proprio la cosina da aprire quindi basta fare così funzionato una volta ogni tanto funzionano anche sti sistemi qua c'è un altro open è tutto un open qua tutto un open quanta carta quanto cartone tac 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 apriamo la scatola oh e tiriamola fuori eccola qua eccolo qua il marchio lo potete vedere benissimo è un rotary ragazzi è un rotary un simpatico rotary ora rotary che marchio è voi direte un marchio del cazzo no niente di che è una finta niente di che è uno di quei marchi che oggi ne ho già portati i orologi di rotary sul canale storici che però poi dopo ci sono un pochino reinventati attualmente ad esempio la sede è in gran bretagna e hanno due linee di orologi una linea di orologi swiss made figuratevi è un'altra linea di orologi fatti completamente in asia con i miota cioè si divide in due questa cosa qua non è che mi è mai andata a genio cioè come l'aco anche l'aco fa così fai i pilot con il mio da poi fai palot con con dieta due linee differenti c'è una casa che si divide così non mi lascia un po perplesso e per questo gli orologi sono fatti male anzi non ho mai trovato uno fatto male guardiamo un po cosa c'è occhiale tattico militare questa roba del negozio una card si sa che il negozio da quello preso è united kingdom perché l'ho preso su amazon da un negozio fisico arrivano dalla united kingdom e senza pagare dazi a volte su amazon succede però c'è nessun timbro c'è vabbè c'è forse va bene così ma è questo via scatola e ci abbiamo anche un sacchettino quel sacchettino non serve coltello quindi chiudiamo il coltello che sono qua ci possiamo fare anche del male ma del male di quello cuscino vietto vietto via poi si sistema ed eccolo qua fatemelo vedere qua ci abbiamo anche la pellicolina la pellicolina togliamo la pellicolina ha tolto la pellicolina bello ragazzi è bello fatemi dare un occhiatela se è tutto a posto per lo meno diciamo a grandi linee misure contro misure allineamenti vari bello ora voi dovete pensare a questo orologio qua l'ho pagato 180 euro 180 euro chiaramente fa parte della linea fatta in cina in asia da bracciale si sapeva ok ve lo faccio vedere dai tolgo subito questo cane qua visto che ed eccolo qua il rotary le 41 mm vetro zaffero 200 metri di impermeabilità mi sembra calibro miota e design tutto sommato personale eccolo qua un orologio decente con un design tutto suo che non va a straccoppiare a destra a sinistra si si tratta del solito diver con la ghiera girevole no spalletti di protezione tutto quello che vuole però differisce un pochino dal resto del mondo dai per qualcosa qualche spunto qualche spunto originale qua e là ce l'ha soprattutto la forma degli indici ragazzi gli indici ai quarti sono abbastanza strani dietro qua abbiamo il solito fondello fondello a vista va bene tanto ora facciamo presto subito mando subito la recensione così poi vedete tutti i dettagli tutti i dettaglini qua gira 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 simpatico però metto un attimo il polso bracciale c'è chiaramente la chiusura di quelle mangia riso a tradimento è comunque va bene diciamo che ci siamo ci togliamo il legend diver ci mettiamo questo speriamo che bracciale lunghissimo infatti andrebbe accorciato che comunque non lo accorciamo eccolo qua sta anche bene al polso dai ragazzi c'è poco da dire dovrebbe essere un 41 poi lo misuriamo per bene purtroppo ma ci siamo dai direi di girare di girare la camera e guardare la video recensione di questo orlogio che per me sarà una settimanetta di lavoro per voi sarà un batter d'occhio mi rimetto il legend diver che non si sa mai qualcuno me lo rubasse scusami è orologino ma sto qua è un pochino meglio appena appena adesso giriamo la camera diamo un'occhiata e poi dopo le conclusioni finali saranno in coda alla video recensione stessa la mia panoramica parte come sempre dal cercare di comprendere quali possano essere le proporzioni e per far ciò si deve forzatamente passare dalle misurazioni diametro cassa 41.4 mm spessore 12.7 ingombro trasversale al polso 48 mm e interasse ansa da 20 mm misure oserei dire standard per un sportivo con ghiera utilizzabile sia al mare che nel tempo libero ma al di là dei freddi numeri è sempre la prova su strada a decretare il risultato finale e sul mio polso da 19 cm di circonferenza si assesta in maniera coerente al suo fine utilizzativo non appare ingombrante e allo stesso tempo si fa notare e riempie bene il polso uno stile che ricalca gli stilemi dei diver contemporanei con spallette di protezione corona a vite e ghiera girevole spallette che vengono disegnate seguendo un particolare taglio longitudinale che mette in evidenza le appendici lucide rispetto al piano cassa opaco una soluzione tutto sommato originale così come è lucidato a specchio il lato carour che vede anche una soluzione stilistica che mira a restituirci una solida visuale formata da un'unica massiccia superficie è sicuramente una scelta volta a dare un'impronta virile all'orologio ad escapito della sensazione di sottigliezza invece ricercata da altri questa volontà la si nota anche nel lato inferiore laddove la superficie appare un piano unico completamente sullo stesso livello sul quale viene poi avvitato leggermente a sbalzo il fondello trasparente una scelta che pare voler conferire alla cassa un aspetto ancora più spigoloso ed incisivo a conferma della ricerca di una certa originalità e personalità in sostanza si tratta di una cassa dal design ricercato e che esula dai prodotti meramente realizzati in pronta consegna visto che ci troviamo nei pressi del lato b diamo lo sguardo al movimento non ci si poteva aspettare altro che un calibro entry level qual è il miota 82 15 che vediamo dal trasparente vista che poteva anche essere evitata mi immagino come potrebbe essere il posteriore con un bel fondello chiuso e decorato in linea con lo spirito aggressivo dell'orologio ma tant'è ad onor del vero devo dire che pur essendo privo di finiture il calibro incassato non dà quella sensazione di estrema povertà di contenuti che avevo ad esempio riscontrato con l'ultimo lorus recensito anche se in quel caso si trattava di un nh35 resta il fatto che si tratta di un calibro base e niente più devo poi far presente il solito errore concettuale barra tecnico che ogni tanto salta fuori anche su orologi più importanti di questo lo scatto data fantasma è infatti presente la posizione intermedia alla corona quella deputata alla regolazione del datario cosa inutile e superflua visto che in questo orologio non vi è alcuna finestra data fattore decisivo a livello però di pulizia quadrante tutti gli indici applicati si ritrovano così equidistanti e simmetricamente contrapposti se quelli dondeggianti sono un classico di questo genere gli indici posti e quarti rappresentano un tocco di originalità per una volta si sono evitati triangoli e bastoni e la personalità ne guadagna sicuramente da notare che quelli che sembrano essere bicchierini sono in realtà a forma di tronco di cono più larghi alla base vanno restringendosi fino al punto nel quale compare superluminova e sono circondati da una sottile cornice metallica lucida che lancia uno scintillio a seconda dell'inclinazione del polso la sensazione è quella di una realizzazione pregevole inoltre questa sagomatura accentua la profondità del quadrante e lo rende piacevolmente tridimensionale tutto ciò rende eccellente la leggibilità del quadrante stesso d'altronde fondo nero ed accenti a contrasto rappresentano la miglior soluzione possibile una leggibilità che anche figlia del vetro zaffero che sovrasta il quadrante non si riscontrano distorsioni di sorta in quanto si tratta di un trasparente completamente piatto e a filo ghiera quest'ultima è chiaramente unidirezionale a 120 scatti ben manovrabile e con un grip buono anche se non eccezionale questo perché la zigrinatura è piuttosto dolce e va ad invadere leggermente la parte superiore della ghiera stessa a livello estetico ciò comporta un inserto più sottile del solito si tratta di un elemento in alluminio nero sul quale vengono riportati tutti e 60 i minuti di un giro completo utile come punto di riferimento da segnalare poi il triangolo rosso ad ore 12 che regala quel tocco di fantasia in più triangolo che vede incastonato il dot luminescente che in assenza di luce svolge il suo compito devo dire che è meno efficiente degli accenti sul quadrante in quanto questi ultimi si attivano in maniera eccellente anche in penombra mentre il dot per caricarsi richiede un maggior tempo di esposizione alla luce non rimane che di squisire del bracciale bene si sente e si vede che la qualità è decente ben spazzolato maglie piene finali ricavati dal pieno ma la sensazione che non tutto sia perfetto la si percepisce dalla lucidatura laterale che lascia intendere una certa povertà di finiture la conferma la stia poi analizzando con attenzione gli elementi a disposizione le maglie sono tenute assieme da semplici economiche coppiglie e la parte interna non viene per nulla rifinita si vede la parte viva lasciata dalla fresatura inutile poi dire che la chiusura di quelle di fornitura standard lo si vede chiaramente scatoletta uguale a tante altre e cerniera interna il lamierino sottile e satinato possiamo tornare presa diretta per le considerazioni finali cosa aggiungere a questa panoramica questa recensione che abbiamo visto fino adesso che è un orologio che secondo me può valere il prezzo a cui viene comprato perché perché il prezzo di listina sul sito ufficiale degli amici della rotari e mi sembra sopra i 200 torno ai 300 che insomma non è neppure tanto esagerato ma lo street price cioè quello clicchi e compri quindi non c'è nemmeno da stare a chiedere lo sconto a qualcuno proprio sui marketplace è di 180 non si trova in offerta 180 quel prezzo lì può diventare un'ottima alternativa a tutti gli orologi entry leve che abbiamo visto fino adesso i secco 5 sport nuovi e costano più di 180 euro e come caratteristiche tecniche siamo lì poi se uno vuole un secco è meglio che prenda un secco se vuole un orient kamasu bene che prenda un orient kamasu però se qualcuno vuole qualcosa di differente dei soliti marchi per diversificare un po questo rotary enley non è per niente male anche gli amanti delle caratteristiche tecniche qua troveranno il loro bel vetro zaffiro punti deboli abbiamo visto che è c'è lo scatto lo scatto della corona fantasma questo però è un punto debole che come ho detto non può rappresentare un deal breaking non può essere un impedimento all'acquisto certo ognuno deve farsi la sua scala di priorità e se per per lui questo l'impedimento veramente così forte non lo comprerà 100 metri di impermeabilità l'ho detto l'ho scritto nella recensione però non l'ho detto vocalmente sono 100 metri più che sufficienti per fare qualsiasi cosa anche per andare a fare il bagno al mare certo non per fare le immersioni con le bombole però tutto tutto quello che si può fare con questo orologio è utilizzarlo quotidianamente come fosse un everyday watch senza problemi ecco magari qua questa questa carrur laterale così alta e lucida potrebbe potrebbe graffiarsi ma non ce ne frega niente sono 180 euro e ragazzi non è che si prendono degli orologioni orologioni con quella cifra lì bracciale come al solito come al solito non tanto perché il bracciale è fatto bene con qualche punto debole qua e là come la clasp che è di fornitura semplice così un po scrausa ma bracciale in sé in acciaio è fatto bene anche i finali sono bene adesi la cassa piena insomma per me è promosso soprattutto per il prezzo a cui viene venduto se dobbiamo poi fare delle classifiche con orologi più costosi allora è chiaro che va anche a perdere comunque promosso per me è promosso io ho messo lì sul piatto tutti gli ingredienti voi assaggiateli se vi piacciono fate come vi pare a voi boh mi sembra di aver detto tutto vi ringrazio per essere arrivati fino qua aver guardato il video spero vi sia piaciuto l'orologio del presentatore se così non fosse ce ne faremo tutti quanti una ragione vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love ciao ciao ciao